Aveva denunciato il furto di cinque valigette contenenti gioielli in argento e piette preziose per un valore di circa 750 mila euro, ma in realtà era tutta una messa in scena. E' così finito nei guaio un ex rappresentante di una ditta orafa della Valtiberina, scoperto e denunciato dopo mesi di indagini dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sansepolcro. Lo scorso maggio i militari avevano infatti ritrovato in aperta campagna, nei pressi della regionale 258, una valigetta, alcune custodie e 16 rotoli di stoffa di quelli comunemente utilizzati per il trasporto del campionario orafo. Materiale che era stato prelevato e studiato attentamente, era così saltato fuori un piccolo pezzo di un biglietto da visita, un dettaglio che ha poi incastrato l'ex rappresentante. Attraverso quella traccia i carabinieri sono infatti risaliti alla denuncia presentata dal rappresentante residente nelle Marche, formalizzata nella provincia di Potenza, nella quale si faceva riferimento al furto di cinque valigette, del tutto simili a quella ritrovata, portate via da un ladro dopo la spaccata di una macchina. Aveva così preso avvio un'attente e complessa attività investigativa, che dopo qualche mese ai necessari riscontri ha portato ad individuare e denunciare il rappresentante orafo per aver riscenato il furto ed esserse appropriato dei beni in questione.